SANTO SPIRITO Alessandro Vacca, figlio di Giuseppe Vacca, scrive una lettera aperta per rivendicare l'intitolazione all'ormai defunto genitore, il quale era già ex delegato sindaco. Pertanto, per la nuova intitolazione di Piazza Roma, si è aperto un dibattito sul nuovo nome. Le ragioni della discussione sono molte e sono legate, a detta di alcuni cittadini, alla diversa interpretazione da parte dell'Aggiunta Comunale di Bari. Ma sulla normativa che disciplina la materia. Su quest'ultima vicenda è intervenuto anche il figlio e nel contempo prosegue la polemica sulla nuova intitolazione. Ci si augura che il figlio Alessandro Vacca riesca a trovare veramente un'intesa con l'Aggiunta Comunale di Bari dal momento che non è esistita uguaglianza di idee per la proposta alla nuova denominazione. Grazie. 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 Grazie.